Il carnefice non ha bisogno di bussare la porta. Il testo è toccante, l'interpretazione straordinaria e non può essere diversamente se sul palco c'è lei, donna coraggio che ha saputo reagire alla violenza subita da un uomo che diceva di amarla e che invece... Il monologo di Jessica Notaro è anche il cuore centrale di uno spettacolo che mescola la musica di Mario Rosini e di balletti curati dal coreografo Antonio Caggianelli con i ballerini della scuola Iker di San Ferdinando di Puglia, diretta da Grazia Ferrante. La Forza delle Donne è uno spettacolo a forte impatto emotivo, quelle emozioni che Jessica Notaro trasmette alla platea di Piazza della Costituzione, accolta nel pieno rispetto delle norme anticontaglio. Una giornata intensa culminata in uno spettacolo teatrale scritto da Gerardo Russo per stigmatizzare e per condannare le ingiustizie e le violenze. C'è un po' la stessa storia che si ripete di casa in casa. C'è un po' la stessa storia che si ripete di casa in casa.